Nella città cinese di C.C.R. 11 persone hanno perso la vita a causa del crollo del tetto di cemento di una palestra scolastica. Le autorità hanno riferito che il crollo è stato causato dal peso eccessivo dei materiali depositati sul tetto. L'incidente ha coinvolto la scuola media numero 34 situata nel distretto di Longshan a C.C.R. nella provincia nord-orientale di Eligonjinjang. Il tragico episodio è stato segnalato nel primo pomeriggio di ieri ma è stato necessario attendere fino a stamattina per recuperare l'ultima persona intrappolata sotto le macerie. Le vittime sembrano essere in gran parte giovani giocatrici di pallavolo. Nel momento dell'incidente la palestra ospitava 19 persone delle quali solo 4 sono riuscite a scappare, secondo quanto riferito dalle autorità. Si è appreso che un gruppo di giocatrici di pallavolo femminile si stava allenando nella palestra al momento del crollo.